Focalizziamoci sul mercato del lavoro perché abbiamo un ospite speciale che ci aiuterà a capire come cercare lavoro e soprattutto come proporsi al mercato del lavoro. Siamo in compagnia di Teddy Crivalari, CEO e Founder YesWork. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie mille. Partiamo con una domanda semplicissima giusto per capire di che cosa si tratta. Ovviamente YesWork è un'app dove uno può cercare lavoro e non solo si può proporre al mercato del lavoro. Ovviamente i dettagli sentiamoli proprio da lei. Esatto, allora YesWork è un'app che è stata creata, abbiamo messo giù le prime basi nel 2018 perché arriviamo da, praticamente siamo imprenditori edili e abbiamo capito che c'era veramente un'esigenza particolare che riguarda i piccoli lavoretti, quindi dare opportunità a tantissime persone a poter arrotondare il fine mese. Tutto è partito con un'idea scritta su carta bianca e da lì siamo partiti e oggi è diventata una realtà. Una realtà dove le persone possono scaricare l'app gratuitamente, quindi i clienti, che hanno bisogno di una mano, una mano per quanto riguarda qualsiasi cosa che può accadere, che può succedere a casa. Faccio un esempio molto semplicissimo, vado di domenica a prendere un mobiletto, devo fare il montaggio e non so montarlo o non ho voglia di montarlo, so che posso aprire l'applicazione e chiedere, quindi guardare attorno i 5 chilometri da dove abito, chi è quella persona che può venire a darmi una mano. Ecco e invece ci siamo fatti. Guardi l'abbiamo perso per un secondo, ci sente? Sì sì la sento, la sento. Perfetto. Continui pure prego. Ok ok scusa perché non avevo capito, ho un ritorno e quindi non si sente bene. Nel 2018 quindi siamo partiti con quest'idea mettendo, assemblando e facendo digitale tutti quei biglietti che si trovano nelle fermate degli autobus, nei ristoranti, nei bar. Tutte queste persone che possono dare il loro servizio non sono persone con partita IVA naturalmente, ma sono tra studenti, pensionati, disoccupati e dipendenti. Persone che vogliono arrotondare il fine mese e che hanno un bisogno di veramente reale per portare a casa qualcosa. Quindi siamo andati a digitalizzare tutto questo. Quindi non è nient'altro una semplice app, molto semplice, intuitiva per tutti, che ci sono i clienti che possono richiedere un servizio e ci sono gli operatori che si inseriscono per dare un servizio. Ecco allora le volevo chiedere anche come funziona esattamente l'app. L'app allora intanto è già disponibile su Apple Store e sia anche su Play Store. Naturalmente a causa Covid non siamo ancora riusciti a farla partire, quindi presumiamo e ci auguriamo che il lancio dell'app venga fatta il prima possibile, quindi tra marzo e aprile. Siamo pronti con tutto e l'app è semplice, va scaricata naturalmente da questi Play Store. Vai a descrivere praticamente qual è il tuo problema, puoi scattare una foto e fare anche un video di un minuto per far vedere le esigenze che hai bisogno a casa. In questo momento ci sono otto categorie, faccio un esempio su una categoria molto semplice che è quella magari di una macchia di muffe in casa che non sei capace di toglierlo, fai la foto, descrivi il problema, invii e nell'arco di 10-15 minuti, in base alle disponibilità, perché all'interno dell'app l'operatore si può mettere disponibile con i semafori, quindi il verde va a dare la velocità dell'intervento, quindi nell'arco di 10-15 minuti l'operatore può venire. Il rosso che non è disponibile, poi abbiamo l'arancione, il giallo, che nell'arco di 60-90 minuti a casa tua. Naturalmente tutto questo viene fatto digitalmente, quindi è molto semplice, si apre e si mette i dati e si va a chiedere un intervento, qualsiasi intervento che ha bisogno, anche delle lezioni, può essere pulizie, una tapparella rotta in casa, devi sistemare il garage e ti serve una mano per spostare determinate cose. Sai che è un'applicazione e difatti il nostro slogan è l'app della gente per la gente, quindi andiamo a dare una mano alle persone che ricevono l'intervento e chi ha bisogno di lavorare, di arrotondare, si può inserire gratuitamente all'interno della nostra app. Ecco, questo punto è molto importante perché risponde sia alla domanda ma anche all'offerta per quanto concerne il mercato del lavoro. Infatti le volevo chiedere appunto chi può usufruire dell'app. L'app la può usufruire chiunque, naturalmente partendo dalla maggiore età e chi si può iscrivere come operatore, come ho detto prima, non partita IVA, ma dipendenti, studenti, disoccupati e pensionati. Naturalmente viene fatta una ricevuta con la ritenuta da conto, quindi grazie all'articolo 2222 dell'ex legge Biagi, del codice civile, noi ci possiamo prestare, quindi dare un servizio a chiunque. Naturalmente si parla sempre di piccoli interventi, perché se ci viene richiesto di fare una ristrutturazione, un cappotto, imbiancare tutta la casa, YesWork non è la piattaforma adatta per questo. Ricordiamo che YesWork è proprio quella che hai bisogno di un'ora, due ore, tre ore, questo possiamo dare. Quindi per tutte quelle persone che vogliono arrotondare, c'è YesWork e il cliente può anche avere il supporto di questa applicazione. Ecco, può raccontarci un po' invece per quanto concerne la suddivisione e la gestione delle diverse sfere in Italia? Ok, allora noi da 4 anni siamo partiti nel 2018, ma due anni precedenti, grazie alle attività e le relazioni che abbiamo creato nel territorio nazionale e non solo, abbiamo strutturato un team operativo in tutta Italia. Oggi YesWork ha oltre 80 soci, che li ringrazio sempre, perché se YesWork oggi è diventata quella che è diventata è anche grazie a tutte queste persone che hanno creduto al progetto e che assieme abbiamo cambiato marcia perché il team, le idee arrivano da tutte queste persone e quindi abbiamo deciso di non fare come tutte le applicazioni, buttarle nel mercato, quindi scarica e basta, ma su ogni zona, ogni regione d'Italia abbiamo deciso di dare la possibilità agli imprenditori di prendere in gestione la sfera. Quindi il nostro software viene dato in gestione agli imprenditori che sono già all'interno della società e quindi ci andiamo ad espandere in tutto il territorio grazie alle sfere. Tutte queste sfere, in base alla regione, si fa un'analisi di mercato e andiamo a raggruppare sfere da 5 km, quindi un raggio di 5 km, a un massimo di 10 in base alla percorrenza, perché tra domande ed offerte ci deve essere velocità. Ecco un'altra cosa che è utile capire, quali sono i benefici di questo tipo di app e l'uso soprattutto di questo tipo di app? I benefici, diciamo che è l'app della gente per la gente, come slogan, quindi l'ho già detto anche prima, è un'app semplicissima e che hanno tutti quanti il beneficio, quindi il cliente che ha l'esigenza immediata sa che può aprire l'applicazione e richiedere un servizio, una prestazione e le persone che vogliono arrotondare, che hanno bisogno di lavorare, perché in questo momento in Italia ci sono difficoltà, ambito lavorativo molto importanti, perché stiamo vedendo tutti i giorni anche delle aziende importantissime che stanno diminuendo, stanno licenziando tantissime persone. È una rivincita, una rinascita, perché la nostra roadmap aziendale è molto ben delineata e abbiamo degli obiettivi importanti, quindi oggi si metteranno all'interno dell'app, potranno arrotondare, ma in futuro ci sarà anche Yes Work Professional, per chi ha superato 5.000 euro di ritenuta da conto e gli ha superati, quindi possono aprirsi partita IVA e noi li possiamo accompagnare e dare sostegno al lavoro. Questo è un po' il… quindi abbiamo veramente un potenziale in mano veramente esponenziale. Guardi, le volevo chiedere se i pagamenti sono soprattutto in maniera digitale o anche in contante, perché a questo punto, come ben sappiamo, il governo ha già lanciato più programmi, come anche Cashback, se vogliamo, giusto per sostenere i pagamenti digitali. Come funziona l'app sotto questo punto di vista? Bravissimo Alexander, è proprio così, è tutto digitale, quindi abbiamo due tipologie, ci può essere la ricarica all'interno dell'account, diciamo, quindi del cliente, oppure pagare con carta di credito. Questo è un punto molto importante perché assolutamente, lo stiamo vedendo anno per anno, viene abbassato sempre di più l'uso del contante. Quest'anno, a gennaio 2021, siamo sotto i 2.000 euro di contanti, dal prossimo anno, gennaio 2022, saranno 1.000 contante e quindi la visione mia è quella, e difatti YesWork è nata anche per questa, che fra 2, 3, 4 anni, quando non ci sarà più il contante, non si ritornerà più come il medioevo, il baratto, io vengo a farti un lavoro e tu mi paghi in alimentari, quindi ci devono essere assolutamente tutta la tracciabilità di quando usi il servizio. E questo fa sì che YesWork potrebbe essere qualcosa di importante anche per il sistema di pagamento digitale. Sì, assolutamente, sì, anche perché abbiamo visto degli incentivi molto importanti del ex governo, bisogna dire a questo punto. Lei ha menzionato proprio poco fa che avete un roadmap molto, molto chiara, con degli obiettivi molto, ecco, molto chiari. Volei chiedere appunto quale è la vostra visione aziendale per il futuro? Noi siamo convinti e la nostra missione è quella che nell'arco di due anni abbiamo tutto il territorio nazionale coperto e inizieremo anche all'estero, quindi in Europa e vari punti fuori dall'Italia, insomma, perché ce n'è proprio un bisogno, abbiamo anche lì analizzato i mercati spagnoli, inglesi e anche lì abbiamo, ci stiamo mettendo lo zampino dappertutto perché un'applicazione del genere a livello europeo non c'è, non c'è assolutamente, ce ne sono tante che possono assomigliare, ma con la ritenuta da conto quindi per le persone che non hanno partita IVA è fondamentale esserci e poi non è solo questo Yes Work perché stiamo veramente, abbiamo come hai detto te, una visione davanti importante perché stiamo facendo tantissime azioni, stiamo creando qualcosa di innovativo anche non solo per i piccoli interventi ma a 360 gradi che oggi è troppo presto per parlarne, dobbiamo ancora partire, quindi diamo frutto al lavoro fatto in questi due anni, il prima possibile e così insomma. Senta, non le ho chiesto invece come nasce l'idea di questa APA, visto in particolare delle esigenze, come dire, delle esigenze importanti per quanto riguarda soprattutto le persone, come ha detto anche gli studenti che vorrebbero arrotondare o ci sono altre idee dietro? L'idea è nata come ti dicevo prima nel 2018, eravamo in cantiere, eravamo io e l'altro mio socio che è poi il mio migliore amico, eravamo in cantiere perché noi arriviamo dal cantiere e era una settimana praticamente che ci chiamava una signora per andare a fare un piccolo intervento e il tempo non lo trovavamo da farlo dal lunedì e il venerdì, ma se noi andiamo a valutare questo per chiunque abbia una partita IVA e fare i piccoli interventi, li vai a portare avanti, li porti a lungo per poi andare a sabato e la domenica e nel momento in cui ti chiedono qual è il tuo compenso per pagarti, solitamente la maggior parte delle volte era quella di dire lascia stare, ma semplicemente perché speravi quando avevano un lavoro più importante che venissi chiamato, ma poi c'era la concorrenza andavi a fare dei preventivi e poi vi diceva sempre chi faceva di meno e quindi questa è stata una delle tante, quella più significativa domanda che ci siamo fatti e ci siamo dati una risposta, perché non mettere e non creare un'applicazione per i piccoli interventi e poi quante persone sono a casa da lavoro oggi? Quanti dipendenti vogliono arrotondare e fanno fatica ad arrivare a fine mese? Io parlo sempre di città, in città grandi, quando c'è un dipendente che lavora in fabbrica a turni e prende quei 1200-1300 Euro, oggi in Italia fai fatica se hai una famiglia ad arrivare a fine mese e quindi tutte queste persone che magari sono capaci di tagliare l'erba, sono capaci di pitturare, sono capaci di montare i mobili, sono capaci di stirare, sono capaci di fare qualsiasi cosa, hanno la possibilità in maniera tranquilla e serena, perché è stata analizzata, c'è tutta una cosa corretta, non si parla di nero, ma si parla di transazioni con ritenuta da conto e questo fa sì che sono più tranquille le persone che ricevono l'operatore a casa e l'operatore che va a prestare il servizio, che può arrotondare il fine mese e così riuscire anche a andarsi a mangiare anche una pizza a fine settimana, avere un sorriso in più per il figlio. Sì, sicuramente questo è un punto veramente importante, intanto avrei voluto parlare anche della parte etica che è stata menzionata da parte sua ovviamente negli appunti che ho ricevuto certamente, però adesso raccontiamo anche a chi ci segue, soprattutto se siete coinvolti in diverse donazioni ad associazioni benefiche. Assolutamente sì, abbiamo voluto fin dall'inizio a fare una partnership con un'associazione che è nata anche lei da poco, che si chiama Stardust, dove vogliamo assolutamente donare l'1% di ogni transazione all'interno dell'app alle sfere dove va a operare, quindi dove c'è quel fatturato, per fare del bene alle persone che ne hanno veramente bisogno. Abbiamo fino adesso fatto alcune donazioni, sotto le feste di Natale abbiamo dato della spesa a 10 famiglie, abbiamo dato una borsa di studio a un ragazzo, abbiamo dato degli altri soldi per una ragazza che continui a fare attività di aerobica e poco tempo fa abbiamo fatto una donazione per l'ospedale di Padova per i bambini che hanno delle problematiche. Grazie mille, grazie per il suo tempo e soprattutto per averci raccontato per questo progetto estremamente interessante, in particolar modo anche in questo momento molto difficile per gli italiani sotto ovviamente il punto di vista del lavoro. Grazie mille a te di Crivellari, CEO e Founder di YesWork, buon pomeriggio. Grazie a voi, buongiorno.